Sì, cazzate ancora. Ma sei matto? Ma dove andavate io? Non lo so io, mi ha detto che andava dalla sua amorosa. Sua amorosa? Credo di sì. Cosa fai? Casini, come al solito. Non ti sa mai. Ma in camera sua. E lì si è nascosto hashish o cazzatevi del genere. Le prendi, le trovi e le butti nel cesso. E non gli stare troppo addosso, eh? Ma non stai con lui meglio, eh? Meglio come fai tu che non ci sei mai. Quando serva, Luisa? Ci sono quando servo.